Era stato accoltellato al cuore mentre era in fila in una parca a Torre del Greco, nell'Interland partenopeo. Così si era spento lo scorso 10 aprile Giovanni Guarino ad appena 18 anni. Indagati per il suo omicidio due giovanissimi appena 15 anni. Per loro ora è arrivata la sentenza, 14 anni e 8 mesi di reclusione. Il pubblico ministero Claudia De Luca aveva chiesto la condanna a 20 anni di carcere per i ragazzini, imparentati con alcuni affiliati al clan Gallo Cavalieri di Torre Annunziata. Il GUP del Tribunale dei Minorenni di Napoli Lucarelli ha invece messo un verdetto diverso per loro, riconoscendo 5 anni meno di cella rispetto alla richiesta. Una pena ugualmente severa che li vedrebbe uscire di galera al doppio degli anni in cui ci sono entrati. I due giovanissimi accusati del feroce delitto si sono sempre dichiarati innocenti, ma gli inquirenti hanno acquisito contro di loro le immagini della videosorveglianza del Luna Park, in cui si vedono i due fuggire in scooter, assieme alle testimonianze degli amici di Giovanni, a cominciare dal racconto dell'altro giovane ferito, quello in cui difesa era intervenuto proprio la vittima. Quando è stata letta la sentenza, la mamma e il papà di Giovanni, che in questi mesi hanno chiesto giustizia per il figlio morto e innocente, erano in aula. Accanto a loro, la mamma dell'amico finito in ospedale con lesioni gravissime per quelle coltellate violente. Come dichiarato dal loro difensore Mario Porcelli, puntiamo al giudizio in appello per chiedere una volta per tutti i fatti e la loro incerta dinamica, nonché per cristallizzare la piena innocenza di Mario Giuseppe, di cui la difesa e i genitori sono da sempre certi.